Sono Ivano Marescotti, faccio l'attore, sicuramente mi avrete visto anche in televisione fare il cattivo, ma qui sono buono. Se ci mettiamo di impegno riusciremo a prendere 3.000 firme per che questa lista si presenti anche in Val d'Aosta, se no il problema è serio, andate a firmare, dopo andrete anche a votare.